Buon martedì 28 maggio. Mi piacerebbe dedicare le riflessioni del martedì intorno alle tematiche che riguardano le matrici culturali, esperienziali, scientifiche e anche artistiche dell'approccio ecologico-sociale antropo-spirituale, in questo tempo nel quale assistiamo a un declino di molti aspetti della vita soprattutto comunitaria, via il declino della politica, il disagio profondo della politica già indicato da Vladimir Udolin nel suo tentativo, molto efficace devo dire, di individuare quali possono essere i fattori determinanti, il processo evolutivo dell'umanità in questa epoca storica, non dunque attraverso un'astrazione ideologica ma attraverso una esperienzialità che però deve fare i conti con la questione della visione, come noi vediamo le cose che nel nostro modo di vedere ci sono i pregiudizi che ci sono stati in parte inculcati, che abbiamo anche costruito. Assistiamo in questo tempo in una sostanziale distanza tra la popolazione generale e le dinamiche della politica, non vi è una rappresentanza significativa che sappia interpretare il disagio profondo vissuto dalle società, anche quelle molto ricche, e assistiamo a un declino della politica che sembra quasi sbandare verso sintomatologie che richiamano le categorie psichiatriche, narcisismo, chiusura in se stessi, formulazione di immagini del mondo fatte a propria immagine e somiglianza. E questo è un'impronta largamente narcisistica, prepotenza, arroganza, confusione tra ironie e sarcasmo. O la va o la spacca. Ma francamente questo linguaggio che sicuramente allude una sorta di populismo del parlare terra-terra, ma parlare terra-terra sapete non è che elevi particolarmente le condizioni umane, anche e soprattutto quando hai in mano il potere soprattutto dei media e ti permetti di dire il tutto il suo contrario nel giro di poche ore. O la va o la spacca. Così si esprime il nostro presidente del consiglio o la nostra presidente del consiglio come meglio preferite. È un linguaggio chiaramente maschilista che abbiamo spesso ritrovato nella storia dell'umanità. O la va o la spacca. Vi è temerarietà. Vi è un'allusione a un coraggio che però viene smentito il giorno dopo perché chi se ne importa, cioè chi se ne frega, resterò. Adunque si metta d'accordo la presidente del consiglio o il presidente del consiglio a seconda di come vi piace. Si metta d'accordo con se stessa e impari magari a esercitare l'ironia, magari anche l'autoironia, anziché il sarcasmo. O la va o la spacca. Ma spacca che cosa? Credo che abbiano già spaccato questa nostra povera Italia frammentato da questa cosiddetta autonomia differenziata che poi significa arcare una ingiustizia nei confronti delle popolazioni che abitano regioni diverse e che hanno l'unico torto di essere nati lì e avere meno risorse. È un torto, ma assolutamente no. Il torto sta nelle ragioni della politica che vuole frammentare semplicemente per mantenere il posto di lavoro dai soliti noti i quali hanno trasformato la politica in una sorta di agenzia di occupazione a salari molto elevati. Siamo in prossimità delle elezioni europee, da qualche parte si vota anche per quelle regionali o per quelle amministrative, locali. E sta andando in scena il peggio della politica. O la va o la spacca. Ma va dove? State tranquilli a tutta l'intenzione di restare, non di andare. Di rimanere in una staticità assoluta che permetta di esercitare un potere che immagina desiderare assoluto il premierato forte. Ricordiamo alla signora Meloni che non abbiamo bisogno di dominatori forti. Abbiamo bisogno di persone capaci di mediare per trovare accorti, non per imporre ideologie. E questo ci porta a reinterpretare radicalmente il nostro modo di porci nei confronti della politica perché poi sempre la Presidente del Consiglio o il Presidente del Consiglio, come meglio vi piace. Visto che la questione di genere è particolarmente importante ed è giusto che sia importante, ma attenzione, al di là della differenza di genere, quello che balza agli occhi è il modo di esprimersi, che purtroppo è terribilmente maschilista, è il peggio del maschile. Prepotente, arrogante, temerario, manifesta un desiderio di forza ma anche di debolezza allo stesso tempo, il classico esempio del maschio arrogante narcisista. Spiace che questo poi si traduca anche nel genere femminile, rispetto al quale dovrebbero prevalere gli elementi dell'accoglienza, della misura, della sobrietà, della concretezza, non dello sbandieramento dei grandi successi inesistenti. E poi vi è un altro aspetto, lo sbeffeggiamento di quanti osano, pensate un po'. Sintonizzare il canale tv su quello che non ti piace, la sete che non è una televisione rivoluzionaria, il proprietario credo sia un uomo di centrodestra culturalmente, non lo so, certo non è un rivoluzionario, un sovversivo. Ebbene tutti quelli che guardano quella trasmissione, quelle trasmissioni, sono stati definiti radical chic, tranquilla, conosco un sacco di persone che guardano quel canale e altri, non sono assolutamente radicali e tantomeno sono chic. Essere radical chic populisti invece è l'impronta che trasmette Giorgia Meloni, una radical chic che finge di essere del popolo. Non è proprio per niente del popolo, è una persona che sicuramente ha fatto una fortuna attraverso la politica, attraverso i lauti stipendi che riguardano tutte e tutti, sia chiaro, non è un'eccezione. Ma non c'è straccia di un cambiamento dirotta. Ecco perché in questo tempo nel quale assistiamo a questi sbeffeggiamenti sarcastici nei confronti di chi non ti voterà mai, abbiamo una necessità profonda di tirarci fuori da questo agone grottesco. E non me ne vogliano quanti nei club magari hanno una grande simpatia per Giorgia Meloni perché la interpretano all'insegna del populismo e della semplicità del linguaggio. Ci pensino anche loro. Ci pensino perché i club non sono né populisti né semplicisti, non sono neppure apolitici. Sono politici ma al di fuori da qualsiasi controversia di partito. Non c'è nessun obbligo di aderire a un partito per entrare nella dinamica di un approccio ecologico, sociale e antropo-spirituale. Quello dei partiti è uno strumento attraverso i quali i cittadini possono esprimere il proprio protagonismo. Ma prima di tutto vi è una necessità contingente, immediata, di porre mania alle basi culturali, pre-politiche che caratterizzano questo nostro tempo, caratterizzato da queste forme estreme, dei massacri di massa, Gaza, l'Ucraina e tanti altri luoghi. Va in scena il massacro in una sostanziale indifferenza, sì qualche tratto di indignazione, ma niente di più. Non ci sono masse popolari che scendono in piazza a protestare, basta con la guerra. Basta con la guerra. Dunque, se non è più il tempo delle grandi manifestazioni in piazza, nasca il tempo di una sostanziale disponibilità da parte di ciascuno e di ciascuna a rivisitare le basi culturali della contemporaneità. Facciamolo attingendo alla sapienzialità antica, a ciò che ci propone la scienza della complessità coniugata con l'aspetto esperienziale. Guardate che la complessità non è un'invenzione radical chic. La complessità è parte integrante della vita stessa e noi dobbiamo attrezzarci, alfabetizzarci indipendentemente dal nostro grado di acculturazione. Dobbiamo studiare insieme. Forse abbiamo anche la necessità di ridefinire l'educazione ecologica continua. Perché non la ridefiniamo? Nei termini di una scuola di apprendimento interminabile, il sai. Tu sai, cioè riconosci la tua ignoranza e ti predisponi a realizzare un processo senza limiti di tempo. La scuola dell'apprendimento interminabile nel quale intellettuale, ignoranti, analfabeti, alfabetizzati, letterati, tutti sono chiamati alla necessità di un costante percorso di apprendimento che ogni volta che raggiunge un punto scopre che bisogna raggiungerne un altro ancora in un atteggiamento di pratica contemplativa, che assolutamente non è un'astrazione e non è neppure una pratica che è finalizzata a qualche momento di relax. No, la pratica contemplativa significa porsi di fronte alle grandi contraddizioni della vita con un atteggiamento che imprime curiosità, che genera una passione a conoscere, ma per essere appassionati alla conoscenza significa porre mano alla nostra, al nostro desiderio, alla nostra, mi veniva da dire volontà, ma qui di volontà ce n'è ben poca, al nostro desiderio, al nostro desiderio di esplorare, di essere radicalmente insoddisfatti, non perché si è chic, ma perché si appartiene alla esperienza concreta della complessità della vita che troviamo in ogni frammento dell'esistenza umana. Ecco perché io credo che il martedì deve diventare, nell'ambito di queste riflessioni matutine, un luogo di attingimento alle fonti, di una scienza che si coniuga in maniera forte e radicale, nel senso che va alle radici, con l'esperienza. Perché il vissuto che incontriamo, per esempio, nel mondo dei club è un vissuto complesso. Ascoltiamo le biografie delle persone che appartengono al mondo dei club e impariamo ad ascoltare le biografie di chiunque incontriamo, senza nessuna intenzione di giudicare, ma cercare di comprendere ed apprendere, attraverso l'ascolto della testimonianza. Sì, c'è grande bisogno di testimonianza, ora più che mai. E questo può rappresentare veramente un punto di svolta sovversivo, capace di costruire ponti di pace non tramite compromessi a ribasso, ma attraverso una ricerca di accordi difficili che richiedono tempo e perseveranza nel tempo e soprattutto richiedono la disponibilità di essere critici verso ciò che accade e critici verso noi stessi, senza mai cadere in una trappola di disperazione. L'autocritica, rivolta alla nostra pochezza, costituente, siamo fragili, siamo persone, esseri umani, che si riconoscono creature che hanno bisogno della reciprocità. e che hanno soprattutto bisogno di liberarsi da qualsiasi istanza di delirio di indipendenza. Agire serenamente impotenti, lo ricordo ancora, richiede uno studio e un approfondimento costante. Il piacere di costruire insieme una conoscenza che rimane sempre incompleta. Sai, dovrebbe essere il punto di riferimento, il sapere. Scuola di apprendimento interminabile. Certo, come diceva Udolin, quando tutto è chiaro, tutto è morto. Finché c'è l'elemento della vitalità, finché c'è la vita, nulla è chiaro. E tutto è da apprendere. Ogni volta che noi ci chiudiamo nella chiarezza che è, sappiamo costruire, viviamo mortificati. Non siamo più in grado di procedere in avanti, di testimoniare il senso di un cammino verso l'inesplorato. Cerchiamo di coltivare la passione della conoscenza attraverso il SAI. Scuola di apprendimento interminabile. Formulato questo apprendimento interminabile nelle forme che le circostanze e le risorse presenti nei territori rendono disponibili. Ma tutti insieme, contemporaneamente, intenzionati a condividere in senso comunitario la conoscenza. Ecco perché, oltre che la frequenza un club, oggi i temi della salute mentale devono essere reinterpretati attraverso uno studio costante e una condivisione comunitaria delle contraddizioni che stiamo vivendo a tutti i livelli. Da quello religioso, a quello politico, a quello artistico, a quello economico. Ecco, io credo che attraverso queste strade. Possiamo rendere fertile l'esistenza su questo pianeta. Sottraendoci alla tentazione delle monoculture, cioè di un sapere assoluto, dogmatico, magari addolcito dalle prospettive popolari, folcloristiche, cariche purtroppo di sarcasmo e di autoassoggettamento. Altro tema molto importante. Siamo chiamati a liberarci dalla servitù volontaria e per questa ragione, ovviamente, non abbiamo nessuna intenzione di esprimere un bisogno di poteri forti concentrati in una sola persona. Si ricordi alla signora Meloni che non siamo indipendenti, siamo interdipendenti e questa è la forza che ci permette di essere autenticamente liberi e indisponibili a ricevere ordini da un solo uomo al potere, maschio o femmina che sia, non importa nulla, qualsiasi prospettiva comunque di desiderio di potere assoluto è istanza che appartiene al peggio della storia maschilista di questo nostro pianeta. Il femminile liberi, sgombri il campo da queste presunzioni autocratiche e autoritarie. Non abbiamo bisogno di un premierato forte, abbiamo bisogno di una politica che sappia mediare, trovare accorti, magari faticosi e di lungo periodo e soprattutto che sia assolutamente indipendente da qualsiasi imposizione da parte delle oligarchie che sembrano oggi dominare il mondo. Dobbiamo liberarci da queste oligarchie, dobbiamo ritrovare la strada di una più equa distribuzione delle risorse. Tutti questi elementi che confusamente in questo breve tempo ho cercato di mettere insieme rappresentano i cofattori fondamentali per definire qual è lo stato d'animo delle soggettività in questo mondo e come questo stato d'animo poi si esprime attraverso quella sintomatologia che è un linguaggio che non dobbiamo ridurre in una diagnosi psichiatrica. non deleghiamo a un'area specialistica della medicina l'affrontare le contraddizioni della nostra società, ma entri anche quell'area specialistica a piedo titolo, mettendosi in discussione. Rifiutando il mandato del controllo sociale, quella area specialistica darebbe un contributo significativo a un sempre più necessario percorso di liberazione che oggi tentenna e si esprime attraverso quelle sintomatologie costituite da chiusura, solipsistica, dalla paura che transita verso le forme paranoiche, dai tentativi di lenire le sofferenze attraverso l'illusione dell'uso di sostanze psicoattive in primis l'alcol. Qui c'è tutto il quadro complesso di quello che viene definito essere la salute mentale in senso globale e che a pieno titolo deve essere immersa nella global health, one health, global health, una sola salute, una salute globale che siamo chiamati a autoproteggere e autopromuovere insieme in una prospettiva comunitaria. Ma per fare questo andiamo ad attingere alle fonti della conoscenza che rimane sempre parziale e incompleta. Dobbiamo studiare insieme mettendo insieme scienza ed esperienza. Buona giornata a tutte e a tutti.